Ma tu lo sapevi che Clooney e Pitt potrebbero tornare insieme per un nuovo colpo da maestro in Oceans 14? Le voci si fanno sempre più insistenti e noi non vediamo l'ora di raccontarvi tutto. Restate qui. George Clooney e Brad Pitt sono in trattative per tornare nei loro ruoli iconici di Danny Ocean e Rusty Ryan. Secondo Deadline, la Warner Bros. è pronta a riportare sul grande schermo la squadra dei ladri più famosa del cinema. La chimica tra Clooney e Pitt è stata una delle chiavi del successo del franchise. La notizia del loro ritorno ha scatenato l'entusiasmo dei fan. Ma chi sarà il regista di questa nuova avventura? Secondo le ultime indiscrezioni, Edward Berger, regista premiato per Niente di Nuovo sul fronte occidentale, sarebbe in trattative per dirigere Oceans 14. Berger ha dimostrato il suo talento in storie complesse e potrebbe portare una ventata di novità al franchise. La sua recente pellicola, Conclave, ha già attirato l'attenzione della critica e lo rende un candidato ideale per questo progetto. La saga di Oceans potrebbe davvero continuare con un nuovo capitolo. E noi non vediamo l'ora di scoprire di più. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like e iscrivetevi al canale per altre novità sul mondo del cinema. Grazie a tutti.